Con Mauro Bernardi, Presidente dell'ATL di Cuneo, prima edizione, primissima edizione della Winter Outdoor Weekend, cosa ci si aspetta e come è nata questa edizione? Nasce dalla volontà di alcuni imprenditori della città di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con le guide alpine e la comunità di Borgo San Dalmazzo e l'ATL di Alcuneese, per cercare di raccontare nel miglior modo possibile quella che è l'offerta della montagna invernale. Montagna che è protagonista da sempre nella promozione e comunicazione del nostro territorio, montagna che è protagonista nella comunicazione e promozione della città di Borgo San Dalmazzo, e ai piedi tre ballate alpine e ai piedi un incrocio tra due valli internazionali, quindi da sempre punta sulla valorizzazione della propria città appoggiandosi sulle valli circostanti. Quindi un tre giorni dedicato alla montagna nella quale potremo trovare la rappresentazione delle tante discipline che faremo in questo inverno in montagna, quindi le migliori discipline del territorio, ma soprattutto l'alta cucina di alta montagna. La presenza di ben 14 rifugisti all'interno del padiglione è un unico maliveno nazionale che solo a Borgo San Dalmazzo potremo trovare.